ciao ecco una ricettina velocissima ho messo a bollire 50 grammi di latte 50 grammi di olio e li metto in 200 grammi di farina di manioca questa è una ricetta brasiliana aggiungiamo poi un uovo e 70 grammi di groviera grattugiato mescoliamo e aggiustiamo il sale un pizzico di sale e mescoliamo fino a ottenere un composto omogeneo una volta che abbiamo ottenuto un composto omogeneo con le mani leggermente infarinate formiamo delle palline io la farina di tapioca l'ho trovata in un supermercato di alimenti naturale perché qui in italia non è una farina che comunemente si trova al supermercato eccoci abbiamo fatto le nostre palline di formaggio le mettiamo in forno a 180 per circa 10 minuti ecco dopo 15 minuti i nostri panini si sono coloriti e noi pensiamo di offrirli tagliandoli a metà e mangiandoli con il del salmone affumicato questi panini sono anche molto buoni se li mangiamo insieme a dei salumi della coppa del prosciutto crudo grazie e arrivederci